La Fiatletica alla fine 80 che si è aggiudicata questa seconda serie, probabilmente... ...sono pronte... ...e qualche ritmo maggiore... ...è partita bene in ultima corsia, nella quinta corsia e sembra anche se qualche metro è stato... ...si stanno, si sviluppano e si sono... ...alle pedane del salto in lungo, a quello del lancio del peso... ...con la premiazione degli stanno stanno con i ragazzi... ...quindi celebriamo e chiamiamo anche Lorena Trivellato... ...Lorena... ...Rattina... ...Lorena Trivellato per assistere nel contesto di questa premiazione... ...possono avvicinarsi... ...possono avvicinarsi i maschietti... ...bello che si aggiunga il titolo di campione provinciale... ...con il tempo di 11.44... ...Daniele venga pure qui in zona podio... ...al secondo posto... ...rappresentante della Poligolfo Formia in 11.52... ...Angelo Marino... ...a seguire... ...Davide Mauro, Poligolfo Formia... ...poi... ...Simone Diezzi... ...quinto... ...Francesco... ...12.45... ...al quarto... ...alterniamo da quell'altra parte... ...per farvi vedere... Chiara Oletto... ...di quanti anni? ...e... ...quindi... ...non ancora dodicenne... ...direi a questo punto... ...una reale promessa dell'Atletica regionale... ...c'è qualcuno che desidererebbe vederti... ...oltre al pubblico... ...meriti l'applauso... ...della... ...pista di Latina... ...per il futuro... ...che tutti noi ti auguriamo... ...sia di successo... ...per il tuo impegno... ...e per noi dell'Atletica... ...che amiamo tanto questo sport... ...tanti auguri Carolina... ...record regionale... ...solo al primo lancio... ...ti vedremo sul podio... ...raggiungi pure i tuoi familiari... ...grazie Carolina... ...e...